Ancora un buongiorno a tutti voi da Telefriuli, bentrovati a questa nuova edizione del nostro telegiornale si parlerà di bilanciamento dei diritti, il diritto alla manifestazione ma anche il diritto al lavoro, allo studio e alla salute. Lo ha detto questa mattina il ministro dell'interno Luciana Lamorgese a proposito all'attesa direttiva del Viminale con le nuove regole per manifestazioni e cortei visto l'effetto che le recenti mobilitazioni no green pass hanno avuto sui contagi da covid come è successo a Trieste dove il focolaio ha superato le 200 persone. Lamorgese ha sottolineato la necessità di tenere conto delle esigenze di tanta parte dei cittadini che hanno fatto la vaccinazione, osservano le regole e hanno diritto ad avere spazi di vita sicuri. C'è attesa per le direttive del Viminale in regione, in particolare a Gorizia dove sabato è in programma un corteo no green pass. Proprio ieri il sindaco Ziberna aveva lanciato la proposta da valutare in sede di Comitato per l'Ordine Pubblico e la Sicurezza di una manifestazione statica in piazzale della Casa Rossa. Il diritto alla salute, ha detto Ziberna, non può assolutamente essere considerato meno importante di quello a manifestare. Non dobbiamo dimenticare, ha affermato questa mattina ministro Lamorgese che siamo in pandemia e rischiamo che ci sia un aumento dei contagi e dobbiamo essere attenti sempre al di là di quello che sono queste manifestazioni no green pass che ogni sabato vediamo. Un 31 anni residente a Gorizia è stato denunciato per resistenza e per guida sotto l'influenza di droghe. In passaggio a Sant'Andrea a Trieste alla guida della sua auto ha attraversato un incrocio con il semaforo rosso notato da un equipaggio della Digos e scappato. Ne è nato un inseguimento ad alta velocità verso il centro cittadino. Il 31enne è entrato nella zona pedonale di Piazza Verdi mettendo a rischio l'incolumità dei passanti e poco dopo è stato bloccato e appunto denunciato. Ancora rintracci di migranti, un gruppo di nove persone, otto provenienti dal Pakistan e uno dall'Afghanistan è stato fermato e identificato a Monfalcone da una pattuglia della polizia. Rintraccio è venuto in via romana. Tutti i cittadini stranieri sono risultati negativi al tampone dopo il fotosegnalamento. Sono stati denunciati alla procura di Gorizia per ingresso clandestino e portati al cara di Gradisca per le procedure successive. Si svolgeranno venerdì alle 15 nella chiesa parocchiale di Barazzetto di Coseano i funerali di Mirko Mattara. Il meccanico 39enne di Flaibano è rimasto vittima dell'incidente stradale in moto avvenuto sabato sera a Coderno di Sedegliano. Mirko ricordano a Telefriuli la compagna Alessandra e i tanti amici. Nei momenti di difficoltà della vita diceva sempre bisogna dai quintri, cioè reagire. Un altro motto in friulano che ripeteva sempre era Sino Siudin Trarino con l'invito dunque ad aiutarsi a vicenda senza volere nulla in cambio solo per altruismo condiviso. Mirko si sentiva pagato dall'affetto degli amici, dalla gioia che provava aiutandoli, non si tirava mai indietro neanche rispetto a situazioni impossibili. Aveva due priorità, la sua compagna e la sua casa, poi la sua passione per le campane con l'adesione agli scampanottadors. Quando le faceva suonare, raccontano gli amici, era sempre una festa. Le persone più vicine lo ricordano per il suo carattere buono, per la sua risata inimitabile. La compagna Alessandra e gli amici in un messaggio inviato a Telefriuli lo salutano così che il signor da Schiampanis, la morte di Alessandra e dai parinti amici, compagni in Paradis. Dieci anni fa, nel corso di un litigio per motivi di viabilità, aveva malmenato una donna e le aveva sottratto il telefono cellulare per impedirle di chiedere aiuto. L'uomo, un cittadino romeno di 37 anni, era stato condannato per quell'episodio ed è stato arrestato nei giorni scorsi dai carabinieri di Aurisina nel corso di un servizio a Fernetti perché la condanna è diventata esecutiva. Portato al Coroneo sconterà la pena di 4 anni e 6 mesi di reclusione. Ammontato a 360 mila euro l'importo stabilito dalla Giunta Comunale di Udine per aiutare contro l'abbattimento dei canoni di locazione, attività commerciali e associazioni cittadine che operano all'interno di mobili di proprietà del Comune e che si sono trovate in difficoltà a causa dell'emergenza Covid. È di 250 mila euro a favore di una trentina di attività produttive e di 150 mila euro per una novantina di associazioni l'unattantum prevista dal Comune di Udine per abbattere il canone d'affitto e agevolare quanti operano in ambienti in locazione di proprietà dello stesso Comune e che si sono trovati in difficoltà a causa dell'emergenza Covid. Una sorta di ristoro dato in che termini? Nei termini di una agevolazione, una tantum, quindi una sorta di contributo per l'abbattimento dei canoni di locazione. Il Comune come proprietario può fare una manovra di questo tipo e quindi tenendo conto delle difficoltà che le associazioni hanno dichiarato di avere perché molto spesso hanno scritto al Comune per avere un abbattimento del canone, associazioni di ogni tipo che comunque si trovano all'interno di immobili che sono di proprietà comunale e anche le attività commerciali. Anche ieri la sottoscritta ha ricevuto una comunicazione così insomma calorata di una imprenditrice e in questi mesi appunto si è lavorato per destinare questi fondi. Quindi abbiamo utilizzato una parte di quelli che sono i fondi del fondone Covid per appunto dare questo tipo di agevolazione. Sono stati celebrati con un convegno al Castello di Susansi, 60 anni del Consorzio del Prosciutto di San Daniele. Si è parlato anche dell'alleanza tra pubblico e privato per valorizzare l'agroalimentare. L'alleanza fra pubblico e privato anche nella promozione dell'agroalimentare è fondamentale per valorizzare una comunità o un prodotto che deve essere sempre più apprezzato dai consumatori internazionali. Così il Presidente della Regione Massimiliano Fedrighe intervenendo alla tavola rotonda organizzata dal Consorzio del Prosciutto di San Daniele per il sessantesimo dalla sua costituzione nel Castello di Susansi. Hanno partecipato il Presidente e il Direttore del Consorzio Giuseppe Villani e Mario Emilio Cicchetti. Si sono collegati da remoto il Ministro delle Politiche Agricole Stefano Patuanelli e Paolo De Castro, Vice Presidente della Commissione Agricoltura al Parlamento Europeo. La politica, ha sottolineato Fedriga, deve tutelare le produzioni di qualità. Nel modo di non andare incontro a richieste alquanto strane che arrivano da multinazionali dell'alimentare che vogliono in realtà omologare invece che valorizzare le differenze e le qualità delle produzioni aggredimentari dei territori. Il San Daniele, come tante altre produzioni del Fremenza Giulia, sono prodotti di qualità e dentro questa qualità ci sono i costi della qualità che devono essere valorizzati anche sul mercato. La qualità del San Daniele, ha aggiunto il Governatore, deriva dall'ambiente in cui viene prodotto, che va quindi tutelato. La qualità San Daniele, per esempio, deriva proprio dall'ambiente nel quale viene prodotto. E l'ambiente è fondamentale tutelarlo facendo gli interventi necessari affinché non degradi e non venga abbandonato. Purtroppo negli ultimi anni abbiamo visto che un'ideologia ambientalista era per l'abbandono. L'abbandono vuol dire danneggiare l'ambiente, non salvaguardarlo. Poi una riflessione sull'asse agroalimentare-turismo. Noi abbiamo proprio deciso, proprio appena sono arrivati in regione, di portare la promozione dell'agroalimentare dentro il promoturismo, perché pensiamo che sia un asset fondamentale per la promozione del territorio e l'agroalimentare. Soprattutto considerando il Friuli Venezia Giulia, che ha, sia da produzioni importanti come il San Daniele, ma anche dalle piccole produzioni, le piccole tipicità, un valore aggiunto enorme. Soprattutto in questo momento, dove il turismo slow sta acquisendo sempre più spazio a livello internazionale, l'agroalimentare tipico e anche di nicchia può diventare un valore aggiunto enorme per attrarre turisti e per far sì che questi prodotti rappresentino sempre di più una ricchezza per il nostro territorio, anche di tipo economico, non soltanto culturale come lo è già. La zona di Maniago, Fanna e Spilimbergo presenta dati preoccupanti per la presenza di inquinanti e metalli pesanti nell'aria, ai livelli di Trieste. A denunciarlo il circolo di legambiente di Pinzano, che nell'ultimo report ha messo in luce le criticità della Pedemontana Pordenonese, chiedendo alla regione di intervenire con monitoraggi e uno studio epidemiologico. L'aria della Pedemontana Pordenonese è malata e al più presto vanno presi i provvedimenti a tutela della salute delle persone. Questa, la presa di posizione del circolo di legambiente di Pinzano, alla luce dell'ultimo report che ha realizzato. Nel mirino finiscono così attività industriali, inceneritori, aree di smaltimento, rifiuti. Secondo legambiente, analizzando i dati del catastro emissioni, sono presenti concentrazioni molto elevate di sostanze inquinanti, come l'anidride carbonica e sostanze acidificanti, strettamente correlate alle attività di incenerimento nell'area pedemontana del frio occidentale, che toccano quasi i livelli di Trieste. In particolare, si rilevano quantitativi elevatissimi di ad nitride carbonica e ossidi di azoto, sia in valore assoluto, sia in concentrazione per chilometro quadrato, nel territorio di Fanna. Maniago è il primo comune in regione per quanto riguarda le emissioni di metano, collegate al trattamento dei rifiuti, mentre elevate concentrazioni di ammoniaca e metalli pesanti, come il mercurio, si riscontrano nello spilimberghese, con una percentuale di oltre il 90% dei rifiuti speciali e pericolosi inceneriti nell'impianto locale di provenienza extraregionale. Per questo, il circolo di Pinzano chiede alla regione di monitorare l'area a quale sorvegliata speciale, predisporre un piano per la riduzione dei rischi derivanti dalle emissioni sul territorio e avviare lo studio epidemiologico, più volte annunciato, sull'impatto degli inquinanti pericolosi sulla salute umana, in particolare sulle fasce più deboli della popolazione. Uno dei maestri mondiali del fumetto, Mebius, è protagonista con oltre 300 opere di una mostra allestita al pub di Pordenone. Pordenone rende omaggio con una mostra dedicata al Palazzo d'Arti, Fumetto e Friuli al grande autore internazionale Jean-Henri Gaston Giraud in arte. Mebius, dal 13 novembre al 13 febbraio dell'anno prossimo, l'esposizione dal titolo alla ricerca del tempo, proporrà al pubblico le opere di uno di più influenti fumettisti e illustratori di tutti i tempi. La mostra è dedicata al più grande maestro, io posso definirlo così, il più grande maestro del fumetto mondiale. Sono oltre 300 opere tra originali, riproduzioni, stampe, incisioni di questo grande maestro del mondo proprio di Mebius, perché lui aveva due universi, due identità, quella di Jean Giraud quando faceva i fumetti western di Blueberry e dopo il suo lato onirico, visionario e fantastico. Quella ospitata a Pordenone è di fatto la più ampia mostra realizzata in Italia dedicata a Mebius. Il PAF è uno dei tre contenitori multiculturali che sono stati accreditati sinora dalla regione insieme a IZ di Trieste e alla centrale di Malnisio a Monte Reale e quindi il sostegno è costante perché crediamo in questo tipo di iniziative. All'interno del percorso, dopo un'ampia sezione dedicata all'artista, sono esposte alcune illustrazioni dei miti greci che hanno ispirato anche il manifesto. Questa mostra si unisce a quelle precedenti che ha organizzato il PAF, penso a Milo Manara, a Giorgio Cavazzano, a Gradi Mishmugia. Questi fumettisti, questi illustratori danno questa struttura un respiro non solo nazionale, anche internazionale. Tra poco l'appuntamento con A voi la linea. Grazie per aver seguito il nostro telegiornale. Arrivederci. Grazie per aver guardato il nostro canale.